Ultimo giro di lancette per la stagione 2018-2019. In campo si affrontano Giove ed Olimpia Tirus, entrambe le squadre senza ormai più nulla da chiedere alla classifica, ma comunque decisa di onorare il campionato. Padroni di casa in divisa gialla ed ospiti che rispondono in compiato a righe orizzontali bianco-verde. Pronti via ed è subito vantaggio Olimpia. Al primo minuto incursione in area della sinistra, palla morbida al centro dove Bartoli deve solo appoggiare il rete ed aprire le marcature. Pronta la reazione del Giove, che al quinto minuto con Bordoni intercetta palla al limite dell'area, solo l'intervento di finestra negra il gol del pari. Al sedicesimo ancora padroni di casa in proiezione offensiva, sciabolata morbida al centro area per Dormi, che di testa appoggia la palla in rete e ristabilisce la parità. Cranio ritmi e le lancette scorrono fino al trentottesimo minuto. Cross dalla destra sul secondo palo, Dormi schiaccia a terra e il palone si impegna di nuovo con Bonanni, che cerca di ribadire la rete ma la palla è fuori. Doccia fredda per i padroni di casa, 5 minuti dall'intervallo. Contropiede Olimpia Tirus, palla Bartoli, appoggio al centro per la corrente Orracchio. Toccolia di piatto che batte Schiaroli e riporta in vantaggio bianco-verdi. Il secondo tempo si riapre al quarto minuto con il Giove in avanti. Paoletti prova la conclusione personale, finestra attento e respinge di pugno. Ancora Giove 5 minuti più tardi, azione prolungata in attacco che si conclude con Cantamessa che spreca la buona occasione spalando fuori. Corriamo fino al trentunesimo quando anche l'Olimpia Tirus si ripresenta in attacco con Agostini che svicola tra le maglie difensive e conclusione a giro di via tra il difensore che impegna Schiaroli alla parata in tuffo. Ultimi tentativi offensivi da parte di entrambe le formazioni nei minuti di recupero, ma sia gli avanti del Giove che quegli ospiti non dimostrano buona mira e le conclusioni corrono sul fondo. Arriviamo al triplice fischio che assegna la vittoria all'Olimpia, ma a festeggiare sono tutte le formazioni che salutano e si danno appuntamento al prossimo campionato di promozione. Ok, devo dare soltanto i complimenti ai ragazzi, ai miei dirigenti che quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione nonostante le difficoltà che ci sono state, sia societarie che tecniche, ma alla fine ce l'abbiamo fatto. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, siamo in promozione. I complimenti ai ragazzi, ai mister, a tutti i dirigenti. Grazie e ci vediamo alla prossima stagione. È stato un anno importante e il risultato migliore che abbiamo fatto è stato quello di, grazie al lavoro dei tecnici, di tutti, tutta la società, ne siamo chiaramente orgogliosi e felici, quello di poter dire di aver fatto giocare tanti ragazzi, tanti cosiddetti fuori quota. Oggi, ad esempio, l'ultima partita, vinta una partita comunque che è sempre stata piacevole, tra l'altro è il terzo anno che finiamo il campionato qui a Giove, in una società che stimiamo molto. Hanno giocato ben nove fuori quota in campo, titolari. Hanno espresso delle ottime qualità da un punto di vista tecnico, è chiaro che il campionato è una cosa diversa, però siamo molto felici di questo e quindi di che cosa essere più contenti se non quello di avere uno dei migliori settori giovanili dell'Umbria e far giocare tanti ragazzi. Questo è il nostro fine, quello per cui come dirigenti cerchiamo di fare del nostro meglio e l'Olimpia di San Valentino Farini ha questo nel proprio cuore, nella propria missione, nel proprio simbolo, cioè cercare di, dai quartieri più problematici della nostra città, far sì che i ragazzi giochino al calcio, attraverso il calcio siano persone che apprezzino la vita, attraverso questo gioco meraviglioso, che chiaramente dà salute e spero anche sia un buon segno per la loro vita. Quindi siamo felici di aver concluso anche quest'anno in maniera positiva. Diciamo che quest'altro anno forse avremo qualche ambizione in più e speriamo che i risultati ci consentano di festeggiare ancora una volta.